Eccoci qua con Consuelo Mangifesta, è appena finita la finale di Champions League Femminile, oltre a due ore e mezza di partita, Conegliano ha vinto al tie-break 15-13 su una palla decisa dal Challenge, cioè un attacco di Paolo Egonu, toccato dal muro avversario non visto e poi ratificato invece dal Challenge. È stato il quarantesimo punto di Paolo Egonu, Consuelo soprattutto è stato il punto della vittoria di Conegliano che sale sul tempo d'Europa per la prima volta in una sua storia. Avere il modo migliore di certo per chiudere una partita in questa puntata, perché è un Challenge che decide per le torti di una squadra, sicuramente non è il massimo, però venivamo da due ore e mezza di gara, meravigliosa, o meglio, forse non bellissima tatticamente, ma da un punto di vista con questi torti abbiamo visto veramente tolle livello, abbiamo visto delle giocatrici in mezzo e forse alcune sono mancate, sia da una parte che dall'altra, ma alla fine poi ha prevanto l'entudiasmo, l'agonismo, la voglia di portare stato un risultato, che ha fatto diventare anche bella una partita non ovviamente bellissima. Allora, noi chiudiamo qui la nostra esperienza a Verona, è stato bello, ci siamo divertiti, le ragazze hanno aperto un grande spettacolo su Sky Sports e appunto noi ci siamo divertiti commentando questa finale di Selle a tutti. Assolutamente, da italiani non possiamo che essere soddisfatti per il risultato.